amici di avriai ben ritrovati anche per questa settimana al nostro cinema news la vostra rubrica che ogni settimana vi racconta da tutte le novità più importanti del mondo cinematografico questa settimana iniziamo con il trailer di Ghostbusters che sicuramente ha fatto parlare per molti giorni il trailer ci ha mostrato le prime immagini del film di Paul fig chiacchieratissimo proprio perché un reboot del cult Ghostbusters appunto questa volta per salvare New York dai fantasmi ci saranno quattro donne Melissa McCarthy Kristen Wiig Kate McKinnon e Leslie Jones tra grandi citazioni e storici personaggi il trailer di Ghostbusters ha convinto alcuni e scontentato altri per il risultato finale dovremo però aspettare l'uscita nei cinema prevista per il 15 luglio del 2016 anche la DC Comics sta preparando il suo film corale ovvero Justice League parte 1 il cast è ancora da confermare ma The Hollywood Reporter rivela che il premio Oscar J.K. Simmons è entrato nel cast nel ruolo del commissario Gordon ricordiamo anche che l'attore ha dato il volto a uno dei personaggi Marvel del passato era infatti JJ Jameson nella saga di Spider-Man diretta da Sam Raimi il film della Justice League arriverà nelle sale nel 2017 potremmo quindi vedere J.K. Simmons nei panni di un altro personaggio stavolta tratto dall'universo DC Comics si è fatto un gran parlare negli ultimi giorni dell'adattamento di Sandman che ha finalmente un nuovo sceneggiatore ma ha perso il suo regista ad annunciarlo è infatti lo stesso Joseph Gordon Levitt sul suo profilo facebook personale a quanto pare secondo lo stesso attore alla new line non vedono allo stesso modo ciò che rende Sandman così speciale quindi un adattamento cinematografico da lui diretto non potrebbe avvenire Joseph Gordon Levitt ha deciso quindi di abbandonare il progetto e di queste divergenze creative ha parlato anche Neil Gaiman l'autore del fumetto rilasciando dichiarazioni molto particolari ha infatti dichiarato che nonostante il suo rispetto per Joseph Gordon Levitt non si è diminuito ci tiene a ricordare che Sandman non è una sua proprietà ma una proprietà della DC Comics e quindi lui non solo non sceglie chi lo scriverà ma non sceglie neanche chi può dirigerlo speriamo quindi che il nuovo regista non incorrerà in nuove divergenze creative con la casa di produzione e che soprattutto possa rispettare il progetto di Neil Gaiman nonostante siano già stati realizzati due film sull'eroina di Tomb Raider Lara Croft con protagonista Angelina Jolie a novembre è stato annunciato un nuovo reboot della saga di Tomb Raider con un nuovo regista Roar Yuta ha parlato delle speranze che nutre nel progetto raccontando proprio che nel riportare Lara Croft sul grande schermo è importante mostrare un essere umano a tutto tondo il regista ha raccontato anche che uno dei suoi film preferiti è i predatori dell'arca perduta e quindi sarà sicuramente uno dei suoi modelli per l'adattamento del prossimo Tomb Raider che si per annuncia molto interessante Capitan America Civil War è sicuramente uno dei cinefumetti più attesi dell'ultimo periodo si è fatto un gran parlare infatti della guerra civile tra Iron Man e Capitan America che probabilmente sconvolgerà l'universo Marvel e porterà a nuovi scenari futuri se vi aspettavate tuttavia un cameo degli Agents of S.H.I.E.L.D. potreste rimanere delusi è infatti confermato che nessuno di loro apparirà nel film che arriverà nelle sale il 4 maggio al contrario dai Marvel Studios ci fanno sapere che probabilmente vedremo i personaggi dei serial nei film futuri anche se la timeline dei film della serie tv è differente sarà molto difficile incastrare le timeline delle serie tv tra cui anche Jessica Jones Daredevil e Agents of S.H.I.E.L.D. con quella dei film nonostante tutto sembra essercene tutta l'intenzione quindi è probabile che vedremo sul grande schermo anche gli eroi delle serie tv Per quanto riguarda il film della settimana vi consigliamo Ave Cesare il film di Joel A.T. Cohen presentato in anteprima alla Berlinale di quest'anno il film, uno scansonato inno d'amore al cinema e alla realizzazione dei film è un calderone di situazioni e di emozioni in cui Joel A.T. Cohen navigano Grazie a tutti